bella dai no e questa è tua eh andiamo eh lunghe lunghe chiamatela chiamarla eh ordine bella ragazze una spacca 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 brava spacca brava eh brava 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 Chiara occhio che corta dai ragazze che va bene eh brava 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 dai No, dobbiamo vedere il sound. E' una magia, è una magia, dai ragazze.